buona giornata amici da massimo foghetti oggi è lunedì 27 marzo 2023 e riprendiamo la nostra rassegna stampa dopo la pausa domenicale vediamo subito quali sono le notizie del almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia san ruperto san ruperto è un santo del settimo secolo nacque a salisburgo evangelizzò la baviera e tutta la regione circostante allora ancora idolatra fu vescovo di worms di ratisbona e fu nel monastero da lui fondato che poi si sviluppò salisburgo la città del sale perché lì vicino c'è una miniera di sale che rese che restò attiva per molti molti anni salisburgo le previsioni del tempo danno un tempo incerto oggi su tutte le marche vediamo la grafica eccola vediamo che sarà una giornata nuvolosa in prevalenza però asciutta con deboli piogge attese al mattino e modo particolare sui monti sui sibillini peggiore in serata con rovesci e anche un drastico calo delle temperature al momento le temperature si attestano sui 10 gradi per quanto riguarda le minime e sui 16 gradi per quanto riguarda le massime il mare è molto mosso ed ora apriamo il giornale a partire dal corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo che si parla del quartiere di san lazzaro il quartiere di san lazzaro è stato sempre un partito un quartiere che desta particolare attenzione e questa volta l'attenzione l'hanno richiesta i consiglieri comunali del movimento 5 stelle nell'ultima seduta della civica assise nei confronti della giunta san lanzaro è un quartiere in degrado hanno detto incuria gravi pericoli e vie al buio l'accusa dei 5 stelle in consiglio insomma sono state evidenziati molti elementi di degrado che necessiterebbero di una attenzione di una cura migliore così come hanno richiesto i 5 stelle il partito di minoranza una maggiore illuminazione per quanto riguarda il campetto di pallacanestro una maggiore cura per quanto riguarda gli asfalti molte vie sono in degrado e poi la segnaletica orizzontale è rovinata e sbiadita il che rende molto pericolosi in modo particolare gli attraversamenti pedonali che se non sono posti bene in evidenza possono creare problemi a chi li attraversa ci sono poi altre osservazioni per quanto riguarda la cura del verde e altre cose che non vanno e che poi incidono anche sulla sicurezza delle quartiere a questa osservazione a questa interrogazione ha risposto nella stessa seduta del consiglio comunale l'assessore elevori pubblici barbara brunori la quale ha elencato tutti i lavori fatti e quindi non è vero che insomma il quartiere non è stato all'attenzione dell'amministrazione comunale però secondo i 5 stelle occorre ancora insistere e fare di più per quali per qualificare questa parte importante dell'abitato della città di Fano. Vediamo le altre notizie una nuova scogliera ai bagni Carlo e non siamo ormai lontani dalla buona stagione ebbene è stato approvato il progetto esecutivo della scogliera che dovrebbe difendere i bagni Carlo l'ultimo bagno scoperto nella zona di Sassonia. Si tratta di un tratto di 165 metri, una cosa del genere tra la diga foranea del porto e l'ultima scogliera realizzata. Un barco che per questo inverno ha causato non pochi problemi alla concessione balneare insomma si è prodotto uno scalino molto alto si è sottratti metri e metri cubi di spiaggia insomma la spiaggia, l'arenile, non è l'arenile insomma è comunque una spiaggia di sassi è stata molto molto rovinata. Per l'abbandono tutto questo per l'abbandono della ditta che doveva eseguire i lavori che a un certo punto è andata via e non si è fatta più vedere e questo ha costretto l'amministrazione comunale a ripercorrere da capo tutto l'iter amministrativo a partire da un nuovo bando per la gara d'appalto. Ora il progetto esecutivo è stato approvato, i lavori sono stati assegnati e speriamo che vengano eseguiti al più presto in modo da permettere alla concessione e a tutta la sassonia diciamo così di svolgere una stazione, una stagione balneare all'altezza della situazione. Vediamo le altre notizie. Allarme, servizio sanitario pubblico, l'azienda sanitaria territoriale incontra i sindacati, lo vediamo qui a fondo pagina sul Corriere Adriatico. Domani è previsto un incontro tra l'amministrazione di Aste, Pesaro, Urbino e le organizzazioni sindacali che rappresentano gli operatori sanitari. La Nao, l'Assomed Marche coglie con favore questa apertura al dialogo da parte dell'attuale dirigenza pur ricordando che essa non è nel pieno esercizio delle proprie funzioni. Essendo amministrata, lo sappiamo, da un commissario ancora alla Regione deve nominare il direttore di questa rinnovata azienda sanitaria non più ospedaliera non più limitata soltanto all'ospedale ma comprensiva di ospedale e territorio. Tale interlocuzione ha dichiarato il segretario provinciale della CGL Alfredo Rossini, no anzi scusate, il segretario aziendale Anao Assomed Aste, Pesaro Urbini, Rossini è un omonimo che riguarda tutta la CGL. In questo caso si tratta di Alfredo Rossini. Tale interlocazione comunque non solo è opportuna ma davvero auspicata, quindi un incontro veramente desiderato anche dal sindacato dei Medici. Il murale gigante di Agrà, tra i più visti al mondo, il murale di Agrà che rappresenta i cartaginesi e quindi anche la battaglia del Metauro che si è svolta nel nostro territorio. La sua battaglia del Metauro dilaga in rete, lo segnala Google nella sua classifica. Vedete qui un tratto del dipinto di Agrà nel muro in cui sono state delineate le varie fasi della battaglia del Metauro con gli elefanti, l'esercito cartaginese, i romani e via dicendo. La battaglia del Metauro è un murales lungo 114 metri di lunghezza per tre di altezza fino all'occhiello di Natale, patrizi in arte Agrà a terre roveresche. Ebbene, è finito nel circuito tra i più cliccati di Google insieme ai ben più famosi murales che si trovano a New York, Berlino, Londra, San Francisco e Barcellona. Pensate che rinomanza che ha avuto questo dipinto. Ed ora giriamo la pagina e siamo a Monteporzio. Smercia sigarette elettroniche a scuola, studente denunciato per contrabbando. Importate dalla Cina per rivenderle agli amici. Nell'auto del 18enne i carabinieri hanno trovato anche dell'Ascis. Si era inventato questo ragazzo un business. Acquistava sigarette elettroniche sui siti online per poi rivenderle agli amici anche a scuola. Ebbene, pensava che nessuno sarebbe mai venuto a conoscenza della sua attività illegale. E invece i carabinieri, durante un controllo stradale, quello di routine, quello che si fa così normalmente, cosa è successo? L'hanno sgammato. Nell'auto infatti nascondeva una quarantina di svapo che non presentavano il contrassegno tabacchi di monopoli dello Stato. Risultavano acquistate addirittura dalla Cina. Per non farsi mancare nulla, lo studente aveva anche in tasca un piccolo quantitativo di Ascis che gli è costata una segnalazione alla prefettura con tanto di ritiro della patente. Quindi non pochi guai per questo ragazzo. In segne turistiche inadeguate a Mondolfo non si legge l'ex sindaco Vergari sulla tavica retratezza e le colpe della sinistra. Ebbene, in segne turistiche non adeguate, secondo Vergari, è la ormai atavica retratezza nella manutenzione di via San Michele, una delle vie problematiche del territorio, solleva una nuova problematica dopo aver pubblicamente espresso sconcerto indignazione per l'aggravarsi delle condizioni. Questo veramente si dedica tanta tanta attenzione della chiesa di San Gervasio in Bulgaria. Uno degli elementi di attrazione turistica più importanti, se fosse veramente valorizzato a dovere, risale al sesto secolo, quinto, quinto, sesto secolo, siamo veramente in età paleocristiana, è un monumento da preservare, non solo da custodire gelosamente e far sì che venga valorizzato nel contesto del territorio in cui si inserisce, nel quale era una tappa importante, appunto, agli inizi del cristianesimo per gli itinerari, appunto, che si facevano verso Roma, verso Ancona e nel territorio. Vediamo ancora le notizie pubblicate dal Corriere Adriatico, vediamo anche qualche notizia sullo sport e vediamo che purtroppo la Vis arretra sempre di più nella classifica. Ebbene, l'ultima partita non è stata affatto confortante per i biancorossi, ebbene, Vis Pesaro 0, Entella 2. Non c'è nulla da fare, è il titolo che appare papale papale sul Corriere Adriatico. L'Entella passa in vantaggio dopo appena tre minuti, poi nel secondo tempo trova anche il raddoppio. Salvezza diretta sempre più difficile per i biancorossi che ora vedono avvicinarsi anche l'Alessandria. Ebbene, occorre veramente un moto d'orgoglio per riuscire a risalire la classifica. Secondo il trainer, la salvezza è ancora possibile. Hanno perso anche quasi tutte le altre pericolanti, e questo un po' dà un minimo di soddisfazione alla squadra pesarese, ma il prossimo calendario della Vis non è affatto facile. Sabato prossimo bisogna fare assolutamente punti in casa con un gubbio ritrovato dopo un periodo di crisi, e quindi il gubbio è in risalita e non sarà facile. Così come non è stato facile combattere in casa con l'Elentella, appunto, avendo perso. Tiriamo ancora la pagina e vediamo il Fano, invece a Fano si respira un'altra aria. Manna dei Panthers dice cavalchiamo l'entusiasmo dei risultati positivi e programmiamo il futuro. Qual è il futuro che si programma per i Granata? È senz'altro la Serie C. Non per quest'anno, loro fanno i conti veramente con grande prudenza. Baldarelli degli Ultras, il prossimo anno vogliamo lottare, dice, per poter tornare a giocare in Serie C, quindi il prossimo anno. Bisogna cominciare a essere primi in classifica fin dall'inizio e mantenere questa posizione fino alla fine. Beh, non sarà facile, ma insomma il Fano ha capito che nelle sue possibilità ci proverà. Vediamo le altre partite. Il Fossombrone sbanda e dice addio al Primato. Sbanda perché ottiene un pareggio contro il Marina. Tanti rimpianti per un Marina Caparbio ripreso solo al novantesimo. Il Marina è andato in vantaggio per primo. Il Fossombrone è riuscito ad agguantare proprio alla fine della partita il risultato con un gol di Riggioni. Addio al Primato. Il Fossombrone non riesce più a mantenere la marcia che aveva ingranato. E vediamo ancora il Montecchio. Il Montecchio a fondo pagina non si ferma. Il blitz contro il Valfoglia. Tanti gol in questa partita. Montecchio ne ha fatti tre. Il Valfoglia due. La capolista riequilibria per due volte il risultato di Ferrini. Però la rete decisiva. Insomma il Montecchio non si ferma e va avanti ancora. Per quanto riguarda il calcio a cinque invece l'Ital Service finale a Mara perde contro il Real San Giuseppe per 3-1. Pesaro non riesce a conquistare la Coppa Italia. La coccarda tricolore al Real San Giuseppe. Tony Dandel e i compagni lottano a lungo alla pari ma alla fine pagano un caro prezzo per un paio di episodi. Vediamo ancora altre notizie di sport. Vediamo il basket. Bologna resta un tabù. La VL non sorride. La Virtus Segafredo nel terzo quarto piazza il break decisivo di 19 a 6. Insomma qui non c'è stato veramente nessuna storia. Virtus Segafredo 88 VL 76. Poca energia in campo e l'autocritica di repesa. E vediamo invece che cosa ha fatto la Vigilar. La Vigilar nel volley a Fano ha fatto un bel risultato. Un risultato pieno. La Vigilar non si distrae e fa il suo il match con il Belluno. Fano mantiene la prima posizione almeno per un punto. Infatti l'Abbapineto segue a 62 nei confronti di 63 della Vigilarse. Ora c'è l'ultima fatica sul parquet di Monselice. Per avere la matematica certezza della leadership. E' comunque bella la marcia di questa squadra che riesce sempre a stare a galla nel primo posto della classifica. Ed ora chiudiamo il Corriere Adriatico e diamo un'occhiata al resto del Carlino. A partire dalla prima pagina dove vediamo il assunto di tutte le notizie pubblicate nelle province della nostra regione. Vediamo subito quella di Pesaro. A Pesaro si segnala un attacco hacker degli anarchici. Quelli che cercano la liberazione del loro compagno che viene detenuto con un regime carcerario particolarmente duro. Ebbene attacco hacker degli anarchici. Sigarette quasi gratis. Nel merino i distributori di sigarette. Al momento dell'acquisto appariva la scritta fuori al freddo dal 41 bis e il pacchetto veniva ceduto per 10 centesimi soltanto. Quindi un danno ovviamente per i distributori. E poi vediamo che a Pesaro si dà l'addio a Luciano Battisti, un grande collezionista di moto storiche. E poi a Fano invece si è parlato di cura dei tumori, una ricerca che accende la speranza. Una ricerca che accende la speranza perché si è tenuto un convegno organizzato dalla Fondazione Pirozzi nella Sala San Michele, sede decentrata della Università di Urbino, per quanto riguarda i passi avanti compiuti dalla ricerca. Questo per quanto riguarda la provincia di Pesaro Urbino. Vediamo invece quella di Ancona. Fallo durante la partita, pestato sul campo. È successo ad un match di calcetto. Ferito un ventottenne, si è rifugiato negli spogliatoi. Sono stati denunciati per questo quattro giovani. Ha avuto anche un calcio in faccia. Veramente una partita amichevole che si è trasformata in una rissa. E poi ancora un grande pesce luna enorme è stato trovato spiaggiato. Qui da noi non è comune, ma è un buon segno per quanto riguarda la frequentazione di questo tipo di pesce nel nostro male. Vuol dire che il mare gode di un'ottima salute. E poi abbiamo una polemica che riguarda i rifiuti. Sette sindaci contro il gestore unico. Ad Ascoli a Fermo si è verificato un incidente al corsodromo. In gara resta ferito un baby pilota. A Porto Sant'Elpidio il segretario dei giovani del PD va con Petrini. Mentre nel Piceno, ebbene nel Piceno si comincia, ma non solo nel Piceno ovviamente, si comincia a fare il pienone dei turisti. Sì, la domenica, specialmente quando c'è il tempo buono, tutte le località della nostra regione si riempiono da gente che fa gite fuori porta oppure proviene da altre regioni. A Fermano un controllo. Ragazzini con la droga alla fermata del bus, purtroppo. Vediamo nella provincia di Macerata, dai podisti alle famiglie alla stramacerata, boom di partecipanti, la città in festa. E poi a Sarnano un nuovo centro polifunzionale grazie agli alpini. Mentre una notizia di cronaca viene da Civitanova. Violenza in casa, mamma con quattro figli in comunità. Apriamo il giornale e diamo un'occhiata al lutto che ha portato via Luciano Battisti a Pesaro. Era un industriale di successo, ma per lui la vera passione, la vera ragione di vita erano le moto. Sconfitto da un male incurabile a 79 anni, aveva collezionato 200 pezzi, tra cui gioielli rari, che hanno fatto la storia del motorismo. C'erano veramente tante, tante auto storiche, auto che avevano compiuto imprese di particolare rilevanza. Nel suo capannone c'erano tutte le moto che hanno scandito i grandi successi della Benelli, nei circuiti di tutto il mondo. Da quella di Jarno Sarinen a quella di Renzo Pasolini, fino ad arrivare un pezzo davvero un mitico, come la 500, con la quale Mike Ilewood corse il Gran Premio di Monza nel 1969. Pensate, 200 motociclette, una collezione veramente da favola. Il padre aveva una rivendita di due ruote, marca Alpino in via Cavour, il ricordo commosso dell'amico Paolo Marchinelli, per quanto riguarda appunto l'imprenditore scomparso. E poi vediamo un'iniziativa che ha avuto successo a Pesaro. Si tratta del cibo di strada, che ha tenuto banco per un weekend nella zona mare. Si tratta dell'International Street Food. Si chiama così il festival del cibo di strada. Nello scorso weekend ha attirato migliaia di persone, per quanto riguarda specialità di cibo italiano, ma di cibo anche straniero, tra rosticini, pesce fritto, hamburger, cucina siciliana, quella pontina, perfino la cucina australiana. Da venerdì scorso circa 30 stand hanno occupato il piazzale antistante, la palla di pomodoro, fino al moletto, ebbene ha completato il tutto la presenza di berrifici artigianali. Beh, una occasione per fare lunghe passeggiate, magari con profumi di arrosto e di birra. Marche attacco hacker, sigarette a 10 centesimi nei distributori automaci. Dammo un'occhiata a questo articolo. Che cosa è accaduto? E' accaduto che a causa di un attacco degli hacker, sono gli anarchici che hanno inscenato questa singolare modalità di protesta, sostenendo la causa di Alfredo Cospito, anarchico detenuto in regime di 41 bis, permettendo a tutti coloro che volevano acquistare un pacchetto di sigarette e farlo con 10 centesimi. Insomma, hanno manipolato tramite appunto internet, tramite il web, hanno manipolato le macchinette che danno insomma i distributori, che danno i pacchetti di sigarette. Ebbene, questo è un danno, un danno particolare che hanno subito i tabaccai, che hanno subito appunto coloro che vendono le sigarette. E tutto ha coinvolto non solo Pesaro e Fano, ma anche Fabriano, Porto San Giorgio e poi il Fermano, Portodascoli, Matelica ed altre città della nostra regione. Ed ora diamo un'occhiata a questo incontro che si è svolto ieri a Fano, la lotta contro il cancro, Francesca e il suo libro, da lì nasce la speranza. Sono stati illustrati i risultati della ricerca sulla replicazione cedulare, sostenuti anche con i ricavi del volume della 24enne fanese deceduta per un linfoma. Sconfiggere il cancro con l'epigenetica, grazie alla sperimentazione finanziata con i fondi appunto della Fondazione Pirozzi. Si è svolta una conferenza appunto nella Sala San Michele, questa è un'immagine appunto dell'evento. Il padre di Francesca, Marco Pirozzi, ha ricordato come la passione della figlia, che aveva scritto la sua tesi, poi diventata un libro sulla corretta alimentazione, abbia contribuito a questi studi, quindi una iniziativa importante per riuscire a finanziare la ricerca. Ed ora diamo un'occhiata invece a questo articolo di cronaca che abbiamo a fondo pagina. Orrore sotto un ponte, resti di cinghiali macellati e gettati nei sacchi. Ebbene, qui veramente l'attività di certe persone non ha alcuna remora. Segnalati da alcuni escursionisti alle guardie ecologiche, ora si dovrà indagare su come sono stati uccisi. Ebbene, questa segnalazione viene dal territorio di Sant'Angelo in Vado. La segnalazione è stata fatta da alcuni escursionisti alle guardie ecologiche volontarie del raggruppamento GEVPU. E subito queste sono intervenute il giovedì scorso sulla provinciale 81, che da Sant'Angelo in Vado va a Piobbico, all'altezza del ponte di San Paterniano, detto anche ponte di Visani, in comune di Urbania. A ridosso della foresta demaniale di Montevicino, rilevando sotto il ponte, nell'acqua del torrente Bottrina, che alimentano i pozzi, ben otto sacchi di scarti di macellazione di animali. Erano animali, erano dei cinghiali, sono state trovate anche due teste intere, poi ventraglie e roba del genere, che qualcuno ha avuto l'idea di prima di tutto ucciderli e poi di sventrarli per l'artisvia le parti più più ghiotte e lasciare lì, questi sacchi, gli scarti della macellazione. Ovviamente è un episodio alquanto raccapricciante. Ed ora apriamo il giornale, anche tornando al Corriere Adriatico, per quanto riguarda le pagine che riguardano Pesaro. Vediamo che si parla della bonifica dell'ex AMG e al penultimo miglio ci sono i primi risultati. La bonifica dell'ex AMG è un procedimento che, insomma, rimane tra pause per riprese dei lavori, rimane in sospeso da tanti, tanti anni. E in questo caso il professor De Angelis monitora il suo sito inquinato, presto le ninfee nel laghetto. Il laghetto lo vediamo qui in questa fotografia, dove tra qualche settimana verranno collocate le piante acquatiche. Per essere utilizzata come area verde, ancora bisogna aspettare più di cinque anni. Insomma, è un lavoro molto laborioso quello della bonifica dell'ex AMG che è stata così deturpata, inquinata da idrocarburi. Siamo ormai in conclusione. Voglio soltanto segnalarvi un altro articolo che riguarda Alessandro, il disabile che ha sottosfratto. Alessandro, scontro sulla casa, un risarcimento di 7.500 euro. Questa è l'ultima notizia. Vi saluto, vi do appuntamento domani sempre alle 7 e intanto vi auguro buona giornata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.